ecco una bella partenza stavolta al method la canna che avevamo spettacolare vediamo in che pesce si tratta potrebbe essere un altro cavera ma forse bello anche questo bellissimo guardate guardate che spettacolo spettacolo di cavetani dell'alvo guardate secondo cavetano uno più bello dell'altro guardate che bello e vai scusa adesso lo facciamo vedere guardate che signor cavetano anche questa a method innescando bigattine guardate che bello veramente bello spettacolo ecco ecco che va via sfreccia ok scusa ecco 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 Grazie a tutti.